Allora Angel, abbiamo un accordo. Preparati a perdere. E voi a casa, mi raccomando, scrivete nei commenti domande scomode e imbarazzanti da fare al nostro demone della radio. Le leggeremo assieme nel prossimo episodio diretto da me. So già che me ne pentirò. Ma almeno questa è un'occasione perfetta per togliermi dalle scatole una volta per tutto questo ragno. Concludiamo questa sceneggiata ringraziando i sostenitori del Patreon. Chris Cogito, Ismael Asa, Mike di Y92, Panda Pandora, Venus 99 e Ryuget X108 che hanno reso possibile questo episodio che non doveva assolutamente finire così. Restate sintonizzati. Angel, quella è la mia chiusura. Non è ironico che questo fosse un episodio su come liberarsi dai pervertiti e invece ora uno di loro dirigerà il tuo podcast. Sei assolutamente sprecevole. Succhiami il cazzo. Io ti odio. È sempre così scontroso. Mi vuole troppo. Dunque, miei pervertiti, a quanto pare abbiamo una missione. Dovete aiutarmi a battere Alastor. Il prossimo episodio di Radio Alastor diretto da me dovrà superare quello con Inazuma Sensei. Quindi... Ho per cento cazzi in culo. Più di 6.000 visualizzazioni. È in momenti come questo che dovete dimostrarmi tutto il vostro sostegno. Io voglio quel ara ara, capito? Ne ho bisogno. E so che anche voi lo bramate quanto me. Spargete la voce, miei daddy e mammi. E noi ci rivedremo presto su... C'è whereas Un Vanguard Merlu. Oh... Gli è un muo. Gli è un luogo. いうこと che зато buona, capito è successo. Grazie a tutti.